Con Sixth Continent guadagni crediti dai tuoi soliti acquisti, abbigliamento, acquisti online e tanto altro ancora. Come funziona? Basta creare il proprio profilo su sixthcontinent.com. È gratuito. Da quel momento hai a disposizione un portafoglio nel quale grazie ai tuoi acquisti e a quelli degli altri utenti in tutto il mondo accumuli crediti per comprare altre shopping card dei tuoi marchi preferiti. Per esempio, con i 25 euro di crediti che Bruno ha guadagnato, può acquistare una card per fare la spesa, pagare le bollette o fare rifornimento al suo solito distributore. Le shopping card acquistate su Sixth Continent sono sempre a disposizione sul tuo smartphone per pagare gli acquisti sia online sia nei punti vendita. Vai su sixthcontinent.com e scopri oltre mille brand e migliaia di negozi.